ok qui posso avanzare se piccare no oppure no dipende da cosa piglieranno loro i raccomand skippin ok ok hanno un sacco di tank tankiness è più che ora si è giovane di nuovo ok ok che succede qui qual è qui è a zero non ho mai visto questa cosa infatti forse è un bug che qui non è così è un buggero ok 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 Grazie a tutti. Lui ha comprato una ping. Chissà dove l'ha messa. 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 Non ci sono morti, altre altre, ancora non ha fatto qualche campo, ma forse non ha fatto proprio lo scatto. Grazie a tutti. Grazie. 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 Stanno succedendo tante cose questa partita Ehm Ehm... No, ma dov'è Twitch? No, ma dov'è Twitch? Ma questo ce l'ha sempre Ehm... No, ma dov'è punk? Ehm... 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 non bene Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, ho fatto triple. Ma bene così. Allora, però, mentre lo fanno senza di me, ma ci vado. Per compagnia. Prenderemo la prima torre. Prenderemo la prima torre. Ma che cazzo stiamo facendo? Prenderemo la prima torre. 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 Grazie a tutti 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 Good shot Grazie a tutti Dove è morto questo Drake Non lo possiamo contestare Non ho manco i flash per entrare Non ho manco i flash per entrare Non ho ancora la 1 1-4-20 1-4-20 Non ho manco i flash per entrare Non ho manco i flash per entrare Non ho manco i flash per entrare Non ho manco che s'il викizziare Ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!